È stata corsa al vaccino, un'altra volta. Sono finiti in 23 minuti le prenotazioni per le 9.600 dosi di Johnson & Johnson destinate alla fascia di tra 65 e 69 anni, inserite nel portale prenota vaccino questa mattina alle ore 9. Oltre 26.000 ai collegati già all'apertura del sistema, con una media di 912 prenotate al secondo. Le vaccinazioni per i nati tra il 1952 e il 1956 proseguono anche con altre 92.000 dosi Pfizer da somministrare e mettere in agenda per tutto il mese di maggio. Oltre 100.000 vaccini nell'attesa di capire cosa ne sarà dei limiti di AstraZeneca e se nella vaccinazione rentreranno anche le persone detratte tra i 60 e i 65 anni. L'assessore Bezzini questa mattina ha precisato che compatibilmente con le dosi, i prossimi ad essere vaccinati saranno proprio gli over 60. Click Day non doveva essere, ma qualche problema c'è stato. Comunque, all'apertura del portale...